eccoci qua buon pomeriggio ragazzi prima di iniziare questo nuovo video che sarà facciamo che sia quello l'ultimo ma poi ne ripariamo la prossima settimana se no qui vassigliamo delle informazioni mi raccomando quando vedere una cosa che pubblichiamo non facciate i dimidoni contattateci perché magari viene qualcuno da che ne so da dormina o da dolbella mona che non trova il disco di gleb coliad in può capire pure questo no contattateci vi mettiamo le cose da parte i midi da parte o cd da parte ok allora di ristampe ne escono tante però cerchiamo sempre di prendere quei dischi o quei cd che hanno un particolare in più qualcosa in più una marcia in più e certamente questo disco questo vinile di red forester uscito da poco per la high roller records tedesca meritava di essere recensito per un motivo semplice a parte che lui è stato un cantante straordinario stato perché non c'è più purtroppo cantante dei riot fino al 1983 poi passato ad avere una breve carriera solista iniziale con questo album dove peraltro ci sono ci sono una sezione rittimica dei rods con gary bordonato e karl kenedi e un chitarrista molto bravo che si chiama paul cayenne lo mostriamo perché questo disco sarete quante volte l'ho visto io nella mia vita una volta sola nel 1983 quando ci poi è sparito davano stampate forse che vi dico 300 copie ma nemmeno questa di stampa è molto molto bella perché a parte che è scurata molto bene vedere l'innesliva è bellissimo delle foto veramente splendide con la storia del vinile a anche delle grandi rette la qualità audio è così così diciamo gli do un 6 e mezzo però per chi conosce la storia di molti dischi anni 80 usciti petichette indipendenti spesso la qualità lasciava desiderare non so vi faccio un esempio i vinili della road runner dei grandi chitarristi o dei sepoltura ma come suonavano il primo dei venom il primo dei dei raven rock anti utroppo sono tutti quanti così così la stessa cosa questo albo che però è stato restaurato come massa e più e più di quello può fare comunque si sente molto bene a volume adeguato il genere musicale è una sorta di hard rock americano con spunti heavy metal alla judith spreece un gran bel disco puoi seguire un altro album con sonorità più americana che stiamo attendendo il suo secondo però questo gone with the wheel ve lo straconsiglio se amate l'heavy metal senza fronzoli heavy metal diretto con una gran bella voce e perché no con del con dei pezzi belli